Allora, qualche, sentiamo l'imam, qualche diciamo formazione estremistica diceva in Italia c'è. Allora, ecco, è giusto cominciare, già lo stiamo facendo da molto tempo, però aprire ancora di più gli occhi perché lasciando marcire il problema magari succede quello che è successo in Belgio dove un'intera zona sono state consegnate agli estremisti italici. Questo è evidente che non può essere fatto e molto verosimilmente non sarà fatto anche perché c'è una resistenza politica crescente nell'elettorato italiano nei confronti di un'ipotesi di questa natura. È molto interessante tuttavia quello che abbiamo sentito poco fa e cioè da parte di una persona responsabile il riconoscimento che c'è un problema che devono affrontare loro per primi e che loro per primi hanno fallito nel contenere e nel prevenire lo sviluppo di questo genere e di questo genere di minaccio. Ecco, mi colpiva anche quando ha detto, diciamo, i nostri confratelli vivono come se non vivessero in Italia come se fossero rimasti nel loro paese. Dobbiamo creare un Islam italiano. E questo pone un problema ulteriore perché per l'integrazione ci vogliono due cose una comunità che è disponibile ad integrarti ma anche quello che arriva deve essere disponibile a integrare. La volontà di rispettare i costumi del luogo dove ci si reca. Anche in questo caso è accaduta una cosa piuttosto significativa qualche anno fa quando il presidente Erdogan si recò in visita l'ultima volta in Germania rivolgendosi agli immigrati turchi che vivono in Germania. Erdogan raccomandò loro di evitare l'omologazione e la perfetta integrazione affinché preservassero la loro identità turca. Quindi a un certo punto c'è un messaggio politico che arriva anche, diciamo, da oltremare che rappresenta una difficoltà per noi. E guarda caso sono sempre le stesse sorgenti che creano i problemi. Sempre le stesse sorgenti, in generale? Mi direi d'accordo su questa linea? Sì, io sono assolutamente d'accordo perché basta pensare a quello che sta accadendo oggi e sta accadendo ormai da quasi vent'anni nei Balcani occidentali. Abbiamo avuto dei finanziamenti incredibili e assolutamente alla luce del sole. Erano chiari da parte dell'Arabia Saudita per finanziare la crescita della comunità musulmana in quelle aree. Oggi come oggi abbiamo una situazione di gravi squilibri e io non so quanto potranno reggere le cose in paesi come la Bosnia-Herzegovina o come il Kosovo, dove queste tensioni si stanno accumulando proprio per questa penetrazione voluta dall'esterno che va a sostenere, guarda caso, proprio queste istanze ideologiche che sono contro l'integrazione, contro la possibilità di una collaborazione fra queste comunità. Gagliani, seguivi qui sicuramente in studio. Allora io volevo chiederti, il generale Camporini ha citato appunto questo piano, diciamo, molto concreto dell'Arabia Saudita di islamizzazione della zona dei Balcani occidentali, in particolare della Bosnia-Herzegovina. Noi dicevamo prima, ci possiamo lamentare fino a un certo punto perché comunque noi con certi paesi tra i quali l'Arabia Saudita, così come col Qatar e tutti i paesi del Golfo, facciamo affari, compriamo il petrolio, gli vendiamo le nostre armi. Allora, in un mondo ideale ci verrebbe da dire, da domani si chiude questa partita, ognuno per sé, arrivederci e grazie. È un'ipotesi possibile o siamo lontani anni luce da tutto questo? Ma io credo che l'ipotesi possibile sia, è doverosa, che l'Italia, l'Europa, tornino ad essere interlocutori credibili e non si facciano sempre ricattare da questi paesi. Prima si parlava di estremismo in Italia, c'è uno studio interessante di Michele Gropi, pubblicato dal CEMIS, Centro Militare e Studi Strategici, che parla di 108 moschee in Italia in mano agli estremisti. E lui sta producendo la ricerca a cui accennavo in precedenza. Infatti, infatti, ha ragione dottore. Allora, voglio dire, non mi sembrano numeri bassi, anche se sicuramente altrove è peggio. Allora, il problema è che noi in Europa abbiamo un confronto di penetrazione tra due sistemi portanti islamici, i salafiti, sostenuti dall'Arabia Saudita, e i fratelli musulmani con l'appoggio del Qatar e della Turchia. Su questo asso, in questo confronto, non dobbiamo dimenticarci che queste forze, ad esempio in Siria, le milizie salafite dei fratelli musulmani combattono al fianco di Al-Qaeda contro le forze di Bashar Assad e anche contro l'ISIS, a dire la verità. In Libia abbiamo le milizie dei fratelli musulmani che, insieme a quelle di Al-Qaeda, combattono le forze laiche del generale Haftar. Allora, noi abbiamo un'identità fra ideologie che poi, quando le guardiamo sul campo di battaglia a casa loro, hanno una precisa identità jihadista con movimenti che noi riconosciamo come non accettabili, come ad esempio Al-Qaeda o lo Stato islamico. Allora, se noi continuiamo a farci ricattare dai turchi sulla questione dell'immigrazione, e qui bisogna dirlo, noi non accettiamo immigrati, noi accettiamo, e secondo me sbagliamo perché io ero favorevole fin dall'inizio ai respingimenti in Libia, noi accettiamo soltanto di accogliere chiunque paghi il pizzo, paghi il biglietto, a delle organizzazioni criminali che tutti i servizi di intelligence, persino la Nato, ci dicono essere legati ai gruppi jihadisti, Stato islamico e Al-Qaeda nel Maghreb islamico. Allora, se continuiamo a usare la nostra flotta, non solo noi italiani, tutti noi europei, le nostre forze armate, per le quali spendiamo miliardi, non per annientare l'ISIS a Sirte, ma per aiutarli a fare i soldi, portando di qua chiunque paghi possa permettersi di pagare la criminalità, e allora ci stiamo suicidando. Io sono stato in Niger e concludo, ho visto partire da là un sacco di gente, da noi arrivano persone per lo più dall'Africa occidentale, i poveracci sono rimasti là, chi aveva una casa da vendere o un'attività o un negozio l'ha venduta per pagarsi il biglietto. Non mi pare questa l'immigrazione che un paese deve avere e comunque, ammesso che noi abbiamo bisogno di immigrati, con la nostra disoccupazione io ho qualche dubbio, sarebbe il caso che ricominciassimo a scegliere dove prenderli gli immigrati, non ad accettare flussi che sono gestiti dai nostri nemici. Ti fermo, allora, rapidissimamente, una valutazione da parte di tutti e due, un quadro, diciamo, desolante ma piuttosto realistico. Io concordo in pieno, il fatto che non li prendiamo perché abbiamo bisogno in questo momento di persone da mettere a lavorare, lo prova il fatto che poi li dobbiamo tenere per strada e persino pagare perché possano essere in grado di sbarcare il lunario. È evidente poi che c'è questo problema di fondo della politica internazionale che è rappresentato dall'urto, che oppone sostenitori e avversari dell'Islam politico. Quindi Arabia Saudita e Turchia, attenzione, sono su sponde opposte. E dobbiamo tenere conto di questo fattore. Un'ultima battuta? Sì, un'ultima battuta è sul fatto che gli europei devono rendersi conto una volta per tutte che non possono più contare sul grande fratello. Gli Stati Uniti da anni hanno deciso che non hanno più nessun interesse vitale da difendere in quest'area e che si aspettano che gli europei si facciano carico di questa responsabilità. Anche dal punto di vista militare? Assolutamente, il fatto che ci sia qualche drone che ogni tanto sgancia, qualche hellfire che ammazza un terrorista, è semplicemente segno del fatto che gli americani vogliono dire guardate che se ci fate del male noi vi colpiamo dovunque siate ma non verremo più a dettare le leggi a casa vostra. Chiunque vinca le prossime presidenziali. Chiunque. Chiunque. Questa tendenza prosegue. Grazie, grazie a Germano Dottori, grazie a Vincenzo Camporini, grazie a Gianandrea Gaiani collegato con noi da Bologna, grazie a voi per averci seguito fino a quest'ora e mi auguro, sconsentissimo me lo dico, di non rivederci in un'occasione triste come questa in onda con Tg2 Dossier. Speriamo che sia davvero così. Grazie, buonanotte a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti.